C'è anche il medico Patrizio Rossi, originario di Pratola Peligna, direttore della sovrintendenza medica INAIL nel neonato Comitato Tecnico Scientifico Europeo per affrontare le future emergenze sanitarie, nonché la post-emergenza del Covid. Rossi, fratello della Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna, è stato cooptato nel Comitato tra gli esperti italiani. L'obiettivo è quello di ripensare un codice di deontologia medica per affrontare al meglio in futuro emergenze sanitarie come il coronavirus, tutelando sia i medici che i pazienti con linee guida, principi, regole finora non previste né normate. Ad annunciarlo è stata l'aeroparlamentare di Forza Italia Luisa Reggimenti, componente della Commissione Speciale per la Pandemia Covid nel corso del convegno codice di deontologia medica. L'iniziativa è stata promossa anche da parlamentari di altri gruppi politici.